Benvenuti nel cuore pulsante del nostro canale dedicato alle serie TV, dove ogni dettaglio è una promessa di emozioni e colpi di scena. Oggi ci tufferemo nelle intricate trame del Paradiso delle Signore Otto, programmate nei primi giorni di gennaio 2024, con il focus su Marta Guarnieri e il suo ritorno che promette di sconvolgere la tranquillità di Milano. Abbiamo già visto che Marta, la figlia del commendatore, è tornata in città con il vento del cambiamento tra i capelli e un caleidoscopio di nuove opportunità lavorative. Ma il ritorno di Marta non è solo professionale, potrebbe essere il preludio a una nuova e appassionante storia d'amore, che le permetterà di chiudere definitivamente il capitolo doloroso del suo passato. Il suo rientro fa vibrare le fondamenta delle scelte di Vittorio Conti, che aveva cercato una nuova storia con Matilde. Ma con la partenza di quest'ultima per il Giappone, la porta si riapre per una possibile riconciliazione tra Marta e Vittorio. Sarà solo amicizia o il destino li rispedirà nel vortice di un amore che sembrava ormai concluso? Mentre Marta si getta a capofitto nel lavoro, emergono i dettagli intricati di un passato sentimentale complicato vissuto in America. Il lavoro diventa il suo rifugio, ma tra le pieghe del futuro potrebbe celarsi un nuovo amore. Magari dietro le quinte del casto in un affascinante nuovo personaggio destinato a conquistare il cuore della Guarnieri. La galleria Milano Moda si prepara a un cambio importante, con l'arrivo di un affascinante uomo d'affari destinato a prendere il posto di Matilde e a scuotere il cuore di Marta. Sarà lui a farle dimenticare le tempeste del passato? Nel frattempo, i fan della S.O.P. continuano a sognare un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio. Una coppia che ha fatto sognare il pubblico con la sua autenticità e affiatamento. Nonostante la pausa di Gloria Radulescu, la speranza di un loro riavvicinamento continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. Siete pronti per una stagione di Il Paradiso delle Signore carica di sorprese e passioni travolgenti? Continuate a seguirci per non perdere neanche un istante di questa avventura irresistibile nel mondo delle serie TV. Iscrivetevi al canale!